Un enorme saluto a tutti i miei amici e i fans a Napoli. Io sarò di ritorno in questa città che amo tantissimo per tanti motivi, il 5 febbraio, finalmente con un concerto per il Revelation Tour. Cosa posso dire? Sapete che la città di Napoli ha il mio cuore, ho avuto delle esperienze molto forti, molto commoventi lì, e dunque di portare uno show così forte in una città che amo così tanto è solamente un piacere. Potete trovare biglietti su Ticketmaster, Ticket One e Viva Ticket. A presto Napoli!